Le religioni sono tutti quanti uguali, hai capito? Gli obblighi e cosa... No, 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 no. La nostra religione è differente. Tu accompagni mi solamente. E io ti chiedo solamente che tu parli, apriti, apriti, cercare di parlare con la gente, hai capito? Che puoi apriti, che puoi apriti. Ma perché? Perché sono chiuso. Cioè, sono chiuso proprio, non riesco a me... Ma cosa non riesci a fare? Ferma, 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 ferma. Che c'è? Che c'è? Ma che c'è, scusa? Zit, 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 no, mi parli... Zit, zit, mi parli uno che la laga già conosciuta, già accompagnata chi lo suicida, là. Ma non lo vuoi incontrare? Sì, no, la voglio incontrare, però... E già penso io, allò? Ma spesso a tutti, tu, no, no, aspetta... La voglio incontrare, ma senza fare questa cosa, e lo subito, così. Ah, come vuoi fare? Aspetta, pensa a stare un momento, zitto. Ma ora sai che faccio? Cioè, faccio una corsa a Torno Palazzo, cioè giro tutto a Torno Palazzo e incontrere... E incontrere all'altro lato così, dicendo, Ciao, come sai? Ma pare buono, no? Ah, appunti... Mannaggia, ma quanta roba mi hai? Eh, ciao! Cosa fai qui? Su... Cos'hai, hai corso? No, sono... Oh, sono sfinita, sto camminando da tre ore. Ah, ma tu non sai nemmeno come mi chiamo. E nemmeno io come ti chiami tu. Beh, io sono Marta, adesso lo sai, e tu? Caetano. Come? Caetano... Ah, adesso lo so. Chi è? Un tuo amico? No, non lo conosco... Sì, non lo... Non lo conosco proprio. Non lo sa. Dai, accompagnami. Va fatti. Oh. Ne, non lo conosco proprio...